Ho una domanda molto interessante da fare ed è sul concetto di invecchiamento e voglio sfatare una verità che continua a propagarsi che è che con l'andare avanti dell'età al 100% noi diventiamo meno forti tuttavia prendendo anche in considerazione un range estremamente ristretto cioè dai 30 anni in poi quando io entro a contatto con persone che a 50 anni sono al loro massimo della forza e della performance che magari non è performance fisica in senso pienezza muscolare, bodybuilding e tutto perché poi la sensibilità insulinica piano piano degenera anche perché col tempo noi accumuliamo stressors poi bisogna anche vedere che tipo di vita stanno facendo queste persone perché dobbiamo anche vedere l'uomo e cosa mangia soprattutto è quello l'uomo in un ambiente 100% naturale dove è rispettato tutto quindi nulla di esogeno né di puntura né cose così niente farmaci no pesticidi, erbicidi, no metalli pesanti ok? esposizione al sole, grounding, piedi scalzi allenamento, respirazione e tutto quindi in questo ambiente qui sì l'uomo quando è che raggiunge il suo massimo? io vedo persone di 50, 60 anni io non ho 60 Ivan e nessuno mi dà 60 anni nessuno ti dà 60 anni nessuno ti dà 60 anni e io faccio tutto anzi dirò di più faccio cose che prima non facevo ok qui volevo arrivare cioè com'è possibile che una persona allenata che reitera un comportamento per x volte deve per forza calare la performance su quel comportamento reiterato non può essere vero no perché tu col tempo il tuo sistema nervoso va a generare dei pattern che mano a mano che si ripetono diventano più semplici diventano più automatici vai a limare quelle che sono le imperfezioni sia del gesto tecnico ma anche quelle che potrebbero essere le inibizioni associate a quel comportamento esempio se io sto a dieta per 10 anni mi viene automatico farlo non faccio fatica quindi utilizzo il resto del mio tempo per apprendere qualcos'altro quindi tutta quanta la concezione dell'invecchiamento è associata e la associano allo stile di vita della persona occidentale quindi che è una persona che tendenzialmente è sedentaria che è una persona che vive di pregiudizi e preconcetti ha un alone di energia negativa e negativismo specialmente poi se guarda la tv che vedi quello investito quella stuprata la borsa che crolla tutti i poveri le merendine lì ok le dipendenze le voglie ok l'ambiente limitante che può darti un matrimonio o che può darti il basso egoismo e lo ripeto la mancanza di egoismo che ti dice prima io dei miei figli perché se io sono stabile è stabile tutto il resto ok quindi la gente si trascura senza saperlo la gente si trascura quindi noi e tanti culturisti sfatano questo mito a dire la verità perché ripeto io so che tra vent'anni sarò forte come adesso se no raggiungerò i massimali no ma infatti ma allora guarda Ivan io ti dico una cosa quello che tu dici è vero ma deve essere figlio di un approccio mentale diverso cosa vuol dire vuol dire che i comportamenti reiterati hanno il loro perché ma quello che veramente fa la differenza è l'aver acquisito una forma mentis che ti fa capire che l'invecchiamento è soltanto un freno mentale allora se tu non ti rendi conto di questo ok cioè ci sono persone molto più giovani di me ti ripeto io ho appena fatto 60 anni persone molto giovani di me che io non mi ci cambio ma manco morto ma non solo da un punto di vista fisico proprio da un punto di vista mentale allora quando la gente comincia a pensare a 50 anni ah ma io sono vecchio cioè capisci che è un problema è un problemino serio io quando vado a fare la spesa mi metto a ridere perché io mi diverto troppo quando arrivo poi lì al nastro vado lì al nastro per pagare e faccio sì no sì no sì no cioè cosa vuol dire vuol dire arriva il carrello della roba e io vedo la gente cazzo cosa cosa mette sul sul nastro cioè più del 50% della roba che butta sul nastro è assolutamente inutile cestino no lo butti in un cestino sì assolutamente allora capisci che è tutta una forma mentis sbagliata sono tutti dei paradigmi sbagliati che le persone hanno e quindi bisogna cominciare a educare queste persone noi siamo degli educatori ma vedo anche tu nei tuoi video che martelli continuano martellato giustamente martella martelli giustamente sull'alimentazione su cosa mangiare fate attenzione a questo fate attenzione all'altro ma la gente vorrebbe star bene però senza privarsi di nulla e questo non è possibile quando tu cominci a togliere via le farine a togliere via gli alimenti processati a togliere via lo zucchero a togliere via tutte le bibite gassate e zuccherate eccetera la vita cambia la tua energia cambia ok e quindi se la gente non parte da questo concetto che se per cambiare bisogna tenere l'insulina bisogna arrivare alla pace insulinica alla quieta insulinica eh ma per arrivare alla quieta insulinica devi eliminare delle cose c'è poco da fare e poi ripeto quello che fa un'enorme differenza chiaramente è anche l'allenamento cioè l'allenamento deve iniziare da quando abbiamo io ho iniziato che avevo 16 anni tu anche tu hai iniziato a 14 anni e quindi se si inizia molto giovani si arriva a 50 anni che un po' si vive di rendita però ho sempre diciamo ho sempre visto il culturista che poi ci tiene alla al fisico alla vita eccetera o comunque alla bellezza all'estetica dopo una certa età si allena palesemente di meno è una cosa che vedi che lo fa apposta che fa dei digiuni intermittenti infatti tante persone iniziano a mettere la restrizione calorica in mezzo e quella cosa là gli permette visto che comunque c'è una cosa che è vera sì il pattern motorio migliora la forza può anche essere maggiore effettivamente e può essere anche migliore il tuo fisico dopo un tot ovviamente dipende sempre quanti prodotti sono stati utilizzati abusati perché tante volte tu vedi le foto vecchie e quelle di adesso dopo una certa età però il prodotto è molto meno cioè cosa succede a parità di prodotto se fai una carriera da natural molto probabilmente stai benissimo pure anzi sei mostruoso pure quello che vorrei sottolineare è che comunque vada più invecchiamo più ci sono delle cellule senescenti che accumulano l'infiammazione si prendono atto dell'infiammazione che c'è si prendono atto dell'invecchiamento stesso e delle mutazioni che si accumulano con l'andare avanti del tempo e si bloccano ok quindi avremo delle cellule muscolari disfunzionali avremo delle cellule con dei mitocondri che non funzionano e alla fine quello che fa il digiuno è fare in modo che queste cellule trovino il modo di rigenerarsi infatti il digiuno ti aumenta il NAD e quello che va a fare è andare a riattivare la cellula cioè attivare le cellule staminali il NAD serve per riattivare le cellule staminali e favorire anche i nuovi mitocondri e favorire i nuovi mitocondri perché il mitocondri si trova che effettivamente non c'è più energia si trova tranquillo per un periodo senza dover andare ad attivare la catena di trasporto e dice ok bene utilizzo questo NAD per cosa? distruggo i mitocondri che fanno cagare li mangio e dopo così sono ancora più forte perché ho la capacità faccio mitofagia e dopo sono ancora più forte quindi vado a distruggere determinate cellule che non mi servono attivando comunque il processo di apoptosi e vado invece a rinnovare delle altre cellule invece che mi servono oppure riattivarle o evitare l'apoptosi di alcune perché alla fine quello che succede e quello che ci interessa anche è evitare la distruzione delle cellule nervose associata all'accumulo di mutazioni nel mitocondrio quindi l'autofagia si è da una parte ci può portare alla distruzione di alcune cellule a volte che lasciano poi gli isosomi attivano gli organelli cellule che sono che potenzialmente possono diventare cellule tumorali ci portano anche la sopravvivenza di alcune che stavano per autodistruggersi dati mitocondri alterati quindi noi mangiamo i mitocondri e stiamo bene quindi effettivamente alla fine è questo con andare avanti nel tempo se hai dato tanto da giovane limita l'allenamento fallo sempre ma fallo meno in modo tale che poi puoi avere più energia per darti ad altro come abbiamo detto in video precedente la componente spirituale il contatto sociale l'esplorazione ok ci sta e dopo soprattutto digiuna cioè abbraccia questa pratica del digiuno limita l'eccesso calorico e bravo ma infatti Ivan e credo il digiuno intermittente certo credo che nei tuoi nei tuoi ma anche nei miei protocolli anti-aging noi mi sembra che professiamo uno stesso credo cioè il digiuno l'interval fasting è fondamentale perché soprattutto dopo i 45-50 anni no il digiuno intermittente è fondamentale per stare bene anche per abbassare i livelli di insulina per appunto favorire questa quieta insulinica che è fondamentale poi alla fine proprio per stare bene tenere modulata la glicemia che è quello che poi alla fine e poi giustamente andare in mitofagia cercando di fare in modo che l'organismo mangi tutte le cellule quando si parla di longevità effettivamente quello che tu vedi sono le percentuali di vita in più che ha una persona che fa il digiuno sulla base di quello che viene migliorato durante il digiuno intermittente si ha un 30% di mitocondri in più che mi producono un 30% di energia in più e che permettono un 30% di longevità e un 30% in meno di stress ossidativo quindi è tutto quanto in linea è per questo che martellano sempre col digiuno che purtroppo tante volte antagonizza quella che è la necessità di crescita che abbiamo però un po' però tu me lo insegni la cosa fondamentale a livello proprio anche di longevità è tenere bassa l'infiammazione l'infiammazione è automaticamente bassa col digiuno l'attivazione di NAD data dalla restrizione calorica ci attiva SIRT ci attiva FOXO e sono gli antagonisti dell'NFKB io ho avuto un ascesso che ti ho detto ne ho avuti due prima su un colo di K estra che ha appa sinistra ho detto no qua c'è qualcosa che non va sto sicuramente infiammato io perché diamo la colpa sempre all'esterno però un'altra persona non fa male a me sì perché sono stato infiammato digiuno ho digiunato 24 ore poi ho fatto un pasto ho digiunato altre 24 ore o in due giorni o in due giorni vi è passato due facendo il digiuno facendo il digiuno attivi l'autofagia cioè qualcosa che vedi è reale e io ho detto perfetto da ora in poi qualunque cosa mi succede io digiuno certo chiaro ma poi come dicevi tu giustamente se vogliamo fare anche un protocollo legato alla longevità e a tenere lontano le malattie degenerative uno su tutti il cancro il digiuno è proprio per il cancro per le longevità generative dove ci sono degli accumuli in questo caso di metamilodine quando si tratta dell'alzheimer o di sinucleine quando si parla di parkinson o di antinghina quando si parla di antinth antinth quel cazzo che è il digiuno è indispensabile ma anche perché sta immunitario anche per le patologie autoimmuni chiaro che andiamo ad aumentare i linfociti t regolatori che bloccano quella che può essere l'iperattività dei linfociti t1 quindi in tutte quante queste cose il digiuno ti salva poi ovvio se staccato il digiuno ti mangi il pan bauletto sono di idiota però quando si tratta di dieta sana il digiuno può aiutare tantissimo certo tu di solito quanto consigli di fare il digiuno io faccio fare sempre 5-2 cioè 5 giorni dove mangi normale spingi talleni e 2 giorni consecutivi da prendere di riposo dove fai un allenamento leggero un'attivazione mattutina e quindi sabato e domenica con poi magari da sera se si vuole fare una ricarica la si può fare però almeno se è digiunato diciamo che tu addirittura fai 2 giorni di digiuno solo liquidi io farei 2 giorni di digiuno intermittente poi se uno è bravo può fare uno solo da 24 anche se io consiglio di fare sempre 2 da 16-18 da 16-18 oppure se vuoi fare uno da 24 lo fai uno da 24 il giorni di digiuno lo fai da 12-16 ecco io 16 l'ho fatto per anche se 16 sì per 2-3 settimane 16 non è a mio parere scusate 16 non è ottimale anzi perché tu arrivi al punto dove devi ancora iniziare a utilizzare il glicerolo non lo stai utilizzando ne ancora e quindi sei in massimo catabolismo proteico quindi la cosa migliore da fare se vuoi fare una cosa fatta bene sono due giorni consecutivi una volta al mese boom boom e poi magari ogni tanto un 16 ore semplicemente per stabilizzare la glicemia poi iniziando dalle proteine possibilmente non dai carboidrati o dal piatto di pasta e cose così però la verità è che noi iniziamo a utilizzare il glicerolo come fonte energetica data dalla mobilizzazione dei lipidi dopo le 20 ore dopo le 20 ore quindi sarebbe la cosa migliore in questo caso se vuoi realmente dimagrire fare così altrimenti poi non sta utilizzando niente se hai tutta gluconogenesi data al muscolo quindi tu lo consigli giustamente anche questo questo digiuno intermittente lungo giustamente anche per chi ha l'obiettivo del dimagrimento sì o comunque body recomposition la posizione corporea e tutto quello che riguarda chiaro dai ti facciamo la carta astrale va bene Franco sì vai ammone ragazzi grazie a tutti per l'ascolto come sempre e alla prossima tutte le domande fatele sotto vabbè lui e Frank lo conoscete già se lo volete seguire topfranchi top trattino basso slash bus franchi franchi ok voi intanto comunque lo trovate facile e ci vediamo la prossima settimana ciao ciao belli